ciao amico e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su mario sport mix ovviamente in compagnia di mio padre allora nel primo episodio di mario sport mix abbiamo superato i 25 mi piace e visto che so che potete arrivare a 25 mi piace se ovviamente in questo video raggiungiamo altri 25 mi piace facciamo un terzo episodio di mario sport mix vedete che sono successe un sacco di cose qui palle d'oro queste robe belle e anche un sport mix mi piacerebbe farlo però visto che comunque ancora lo dobbiamo finire preferisco prima finire il gioco e poi farvelo vedere e si conviene oggi vogliamo fare palla canestro perché l'altra volta abbiamo fatto balla non ci ho mai giocato quindi vediamo che cosa si combina ma per potenza azioni vai io prendo luigi e mario difficoltà difficile prendiamo questo classico che secondo me è anche quello più difficile vabbè almeno c'è un movimento perché se no se prendi facile mi fanno cagare va bene quindi devo per saltare due è giusto per prendere la palla ah io non ce l'ho mai giocato con il corso ok vai per passare uno per tirare due ok passa vai ma tu già stai per aria è la combinazione non lo so come si fa ma intanto copro è il proprio mario è già già che ha fatto la combo che ha fatto a facciare una moletta o come hai fatto con una banana ma se ne fa possibile ho ricoperto la palla di una buccia di banana e poi veramente non ne ho visto questa cosa dopo io attenzione le finte ma come se è una finita o quel che non esce questo e ma non mi tirai a me però mi hai fatto parte la palla ho saltato siamo cinque pari primi premi a ti riprendono a vai 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 partito dice la passa la palla ok no mamma mia che defino nemmeno già cercato a un passo a un passo dal canestro è ben difficile eh oh cavolo questa ferma no cavolo il culo è saltato eh perchè io no mannagina due volte stanno a nove vai eh passa e vai e quindi possiamo fare la cosa bella si quando stiamo siamo diciamo siamo 19 cavolo oh mi sono saltato infatti mi sono saltato non devi girare c'è non devi fare il controattacco dentro il cittadino no che strombola non ci vedo la tua moglie basilica bravo possa manana ma dai impossibile per la stridini dai con una banana no no ma io sono mezzo di fissera mi sto capendo niente sto sincero up basta basta se ci sono difficoltà vai io mi trovo qua ma perché non mi tira di perpotenza la ripresa la ripresa ma perché non mi tira di perpotenza devo fare con il 2 non lo so forse con le percettine no no forse con d non sapevo come infatti lei ha ispirato e poi non sono andato infatti come si metto io ah un gustino ahahah ecco come fare i punti eh ma siamo 16 a 20 24 24 adesso no noi siamo a 24 noi siamo la scorra a b vai passa e se me lo fa passà cavolo vai vai amarti tu vai passa nooo cavolo sto per tanto tempo io nooo ma dai tu vai da me uh ce l'ho fatta nooo l'avevo presa pure io erano tutti inutili allora e sono tutti inutili però vabbè no 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 la moneta eh vai scarica tutto via ce l'ho fatta spesso non ce la faccio però arrivo pure una palla d'oro perchè era persa e poi oh bravo ah vabbè però hai visto ho intercettato la palla bisogna avere la pratica perchè sennò infatti non non sono tanto mi trovo ancora devo saltare devo saltare devi vedere allora devi vedere ecco vai vai ah però funziona così perchè ha fatto così perchè io pure oh la presa me ne vado io cavolo ecco passa passa vai ok vai basta lo facciamo imbazzire tac no cavolo passa passa oggi cosa succede no no hai perso la palla eh perchè stavo salta no prendi la salta uh sei l'intero piccolino no ah ce l'ho fatto uguale l'avevo preso però eh eh no perchè tu eri piccolino hai intercettato eh però eri piccolino e non hai fatto molto vai ehi quando dovete saltare la tua capito stavo pensando a te altrimenti siccome la tiro bassa poi se tu stai bassa e non hai saltato eh si e la intercettano subito no che perchè ce l'abbia fatta stavano pensando a te vai passa passa vai facciamo un tiro da tre banana nooo capolina no io sto qua no no eccomi eh ah ok wow come come l'ho fatto non riesco a fare una cosa o devo fare così per saltare pure io una schiacciata non lo so come si fanno le schiacciate vai ma attenzione che passa sempre io aspetto sono piccolina non potrò fare granché nooo ieri eccomi faccio ok mai cosa è successo vai 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 ecco vai cosa sta succedendo nooo come l'hai fatto come hai fatto a cliccare che cosa hai cliccato ho saltato pur così ho fatto allora perfetto un altro harm come sembra va a fare questa serpentetta adesso riprovaci poi fare anche un attacco con 1 e 2 quando fermi la palla cavolo una volta dove stavo io no t'ho torto io perché stavo a girare vai clicca 1 e 2 spapaccio morite male no te ha fermata che babbalucolo no 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 mamma è riusciato questo cavolo vai mamma mia che babbalucolo attenzione ho fermata cavolo ho fatto la pinta ok basta boom boom vai e vai hacka boom che c'era scritto là questi giochi giapponesi eh copro io cavolo non mi girava io stavo a coprire lei infatti no infatti se io vado a coprire ci accopri ci sono da superà ci sono da superà ci sono da superà ci sono da pressà vai dai basta ma dai ma perché non già secca mai bella vai vai ancora basta non riesco più a no no esiste cavolo dovevi fare così questa fa un tiro a giro vai 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 vabbè comunque abbiamo vinto 39 a 35 siamo stati fortunati eh si infatti siamo stati fortunati si infatti allora usciamo e io direi per finire il video diciamo di fare un patico che abbiamo fatto altra volta questi quattro quale sceghi non lo so quel finale vabbè quello con il carillon quella specie di gallo l'abbiamo fatto è giusto si ce ne sono tantissimi tipi poi se vuoi farlo uno vuoi non lo so spostavo le rocce la di botte no botte da ok botte da ok io prendo questi salami qua ok poi scegliamo questo che c'è la potenza vedi di potenza da tanto da 150 e come tosto tosto normale 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 che nemmeno ma di solvetti che sul ghiaccio ok sul ghiaccio ok penso i tasti che per me sempre quelli giusto e no giochi in altra cosa adesso clicca più ok e vedi i tasti i tasti ma sopra ok movimento cambio super tiro molto semplicemente ok sempre continuare noi siamo contro adesso eh ah ah tutti contro siamo si vieni qui oh mi ha schiacciato io devo guardare io cavolo sta cadendo no 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 oh no 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 Caspiterina No, che fai tu? No Sto morendo Libre potenza Caspiterina, sono caduta Ma quello, guarda il coso Ma guarda quello Si inclina No No, la prima volta che so' caduto Babbarucolo Chi ha vinto? Pari, io, te e Daisy E vai Oh io te, abbiamo vinto a tutte e tre Luigi è rimasto pregato Sarva 80 punti, me sa 70 Io voglio rifarlo Vai, ci vogliamo, vai, Giovanni Vediamo perché Se abbiamo vinto in tre Non è che sia La migliore in prova, sa Eh ma la volino Di Bruxelles Vai, 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 vai N1 Questo aspetta che qualcuno si appiccini Eh, Daisy Ma guarda quello Ma te no Eh ma tu mi hai colpito No, Daisy Ma io Oddio, no, scusa Mi devo colpire Daisy Toglitela qui Eh non se ne va Eh, scusami Oh no Oh ma guarda un po' Ma te sei due E a me e Luigi Davolo, Daisy è fortissima No, ma devi Davolo, guarda Daisy Com'è Cattiva Oh guarda questo Se Ma io non lo vuol più scopare quello No, no Boom Boom Oh Cavolo si sente il mangio papi E mannaggia, mannaggia Venite qui No, no, no Non ci voglio credere Sono caduta da sola Oh io zero Ma che schifo è Ho vinto io Ma non mi carica La botta Puoi di fare così Credo Dopo Sì perché se no carichi E non diri Carichi e non diri E' tipo un casino potente Vabbè ragazzi Però Ci siamo divertiti Sì infatti Soprattutto all'ultimo Un casino tremendo Però va bene Quindi Io direi che possiamo Fermarci con questo episodio Lasciate un mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se non avete fatto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti